non posso eliminarti nonno togliti di mezzo se non lo farai vorrà dire che ace verrà giustiziato no non voglio questa è la vita ragazzo devi imparare succedono tante cose che non vogliamo io da qui non mi sposto non avrò pietà tu per me sei un nemico no 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 Garpa! Accidenti! Si stanno sacrificando tutti quanti per me! Mio padre, mio fratello, i miei compagni! Mi stanno facendo fuori uno dopo l'altro! Però sono felice e non riesco a smettere di piangere perché solo adesso ho capito quanto tengo alla vita!